Il virus non spegne la musica bellunese, anzi, se possibile, la stimola e la fa germogliare. Linfa, arte che scorre, nasce da Giampaolo Rossi, Davide De Faveri e Alessandro Casol, le menti che un anno fa partorirono l'idea di Belluno alza la voce e dalla presa di coscienza giunta in seguito alla produzione del brano dedicato alla ricostruzione post-vaya di quanti validi musicisti ed autori siano presenti ad oggi nel sottobosco culturale bellunese. Ci siamo posti la domanda di quanta arte sommersa, al di là della musica, ci fosse all'interno della provincia. Quindi finita l'esperienza di Alziamo la Voce, cioè finita la raccolta fondi, avevamo in mano un importante mezzo di condivisione che ci dispiaceva un po' abbandonare. Ci siamo seduti a tavolino, nel vero senso della parola. Abbiamo deciso che il modo migliore di utilizzare questi canali fosse quello di promuovere l'arte su territorio. Per presentare in maniera concreta il progetto, cinque musicisti hanno dato sfogo al proprio talento tra i boschi di Valmorel a Limana, producendo alcuni video che verranno pubblicati nelle prossime settimane. A questi si aggiungeranno via via altri contributi provenienti dai numerosi artisti della provincia. Lo scopo di tutto ciò, promuovere l'arte bellunese e creare connessioni che nel settore dell'intrattenimento sono quanto mai vitali. Purtroppo da molto tempo c'è una gravissima e fortissima mancanza di luoghi, di luoghi musicali, di scambio e di confronto. L'obiettivo di Linfa è quello di creare innanzitutto una piazza digitale. Quando una persona della provincia di Belluno vuole cercare qualcosa di nuovo, può andare lì. Quando questa pandemia sarà finita, non ci sarà modo migliore di ringraziare l'arte che ci ha tenuto compagnia e ci ha tenuto attivi in tutto questo periodo così assurdo, se non quello di farla rivivere. E di farla rivivere nelle piazze vere, nelle piazze reali e soprattutto nelle piazze del nostro territorio. Grazie a tutti!